Secondo le statistiche di YouTube, solo l'1% di chi guarda i miei video è iscritto al canale. Mi aiuteresti molto se decidessi di iscriverti ora. Grazie! Sì, che i macronini li prendo da dietro. Mi piaccia la cisterna da questi coppettieri. Sì, che roba. Tutto libero. Ah, su! Avrei rotto lo specchietto, amo! No, io lavoro da dove viviamo, c'è il Marine Corps. Ok. Militari? Sì. Wow! Allora dove lavoro, tutti i pacienti sono ragazzi. Ovviamente, ovviamente no. Qualche difetto che c'è. La carta stagnola... Oh, Gesù Cristo! La carta stagnola è più pesante. Il pollo è più buono. Gli hamburger sono più grandi. Tira su, tira su, tira su. Gli hamburger... Tira su, tira su! Non è che devo tirare. Copri tutto! No, tanto non si vedono i capezzoli. Gli hamburger... Oddio, adesso gli dobbiamo accendere. Pronostico Juve Torino? Vogliono tutti. È enorme, raga. È fottutamente enorme. E questo incrocio non ha senso. È troppo grosso. No, non è finito il noleggio della macchina. No, la macchina è loleggiata fino al 6 ottobre, raga. Però oggi voglio cominciare ad andare sull'oceano e a scendere verso San Diego. Guardate che muso! Madonna che bello! È bellissimo tutto! Prima abbiamo visto... Porca Madonna! Mi si mi ha fatto cagare addosso. Ma sei fuori come un poggiolo! Abbiamo fatto bene a partire. No, era proprio buio ancora. Ma più che altro ci siamo tolti il traffico. Sì, sì. Visti tre volte là. Metallica due. Arunmine tre volte. Bello il power trip. Voi fate... Voi fate... Voi fate... Tre le date... Non ci sono bigliotti singoli. O se erano i... Papanazzi... Come stai? Si può cucinare ma non abbiamo le pentole perché se volevi le pentole tutto erano in dotazione. Tutte le cose sono in dotazione. penso che lo sa guidare ciao ma bene no ha escluso tutto pentole lenzuola tutto io ho portato le lenzuola portato le coperte e guardare questa live no 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 perfetto se qualcuno ci avesse clippato e ci manda un paio di foto su Instagram vi ringrazio nell'immediato vi ringrazio buonanotte anche a te facciamo una prova oggi portiamo solo tre bottigliette sono troppe? troppe? sono poche? vabbè oggi facciamo una prova poi compro dentro la roba se abbiamo sede chi se ne frega sono qua centellinare su una bottiglia d'acqua che costa 4 dollari poi non puoi darlo ad altre persone se il mezzo è stato pagato completamente da una persona cioè tu lo tieni lì punto nel senso a una volta ragionamente frega però se tu non chiami per avvisare che tu paghi o no devi chiamare per avvisare che hai avuto un problema un cazzo di problema amore non hai sempre ragione te dai ragioniamoci a mente frega il problema che io ho mandato due mail al servizio purtroppo sotto il sole vabbè per correre verso il dietro così prendo le transenne che la pavio può appoggiare la schiena e può sedersi è la 360 quella sì sì è una action cam che è molto figa allora sei eccitata al discorso di andare agli universal merda non ha emozioni non ha emozioni sono ultimamente con lui ho fatto che andare in giro non ha più emozioni cazzo non so cosa c'è in prima di Alabama sincero allora San Diego Freeway Santa Monica Long Beach minchia raga guardate che cazzo ci ha passato raga ho sbagliato strada porca traia ho sbagliato strada ok stiamo andando a Santa Monica che non è un problema continuano ad arrivare camper che vengono consegnati troia bella figa la signora minchia sorridente ti spaccherai la faccia con il croia basta quanta cattiveria che stanno al luco ragazzi quanta cattiveria che hai addosso perché è colpa tua che è tutta questa cattiveria la parte dell'artico che abbiamo tutti i condimenti ci sono i tovaglioli ci sono maionesi e mostarde a cannone maionese e mostarde a cannone allora quello voglio fare amo no? mica guardo asso io lì eh sto nel video grazie a tutti